Mi perdoni un attimo, chi offende Bosco Reale così come chi offende tutto il resto del comparto della pubblica amministrazione che lavora onestamente sono proprio i comportamenti delle persone, non so se lei è coinvolta o non lo so, che fanno questo ossia che utilizzano escamotage pur pagati per non andare al lavoro quindi chi scredita le proprie città, le proprie amministrazioni sono proprio quei dipendenti pubblici che commettono queste cose Dopodiché mi perdoni e chiudo il comportamento, io non so adesso quanti dei signori o delle signore dipendenti che sono state coinvolte in questa vicenda magari hanno dei figli a casa disoccupati, perché io la cosa che vorrei fare è prendere questi signori così come altri mandarli a casa e a loro posto mettere tanti giovani disoccupati che magari non trovano lavoro allora per favore aiutateci, perché dare il buon esempio, voi dovete dare un buon esempio perché dovete dare un servizio ai cittadini se non date il buon esempio voi, non date un buon servizio ai cittadini, chi ci rimette solo il cittadino? allora da questo punto di vista non si arrabbi se il titolo è spropositato perché quel titolo l'avete creato voi con le vostre assenze